Radio Radicale, siamo con Manfredi Potenti della Lega per parlare dell'informativa di piante e dosi. Allora, le volevo chiedere che cosa pensa dell'intervento che ha fatto anche qui al Senato il Ministro dell'Interno, che valutazioni può fare sulla bontà dell'operato che ha rivendicato il Ministro dell'Interno, che ha smentito tutte le accuse che sono state rivolte, noi non volevamo tutti questi morti e ha circostanziato un po' il modo con cui si è intervenuti per cercare di salvare queste persone. Sì, premetto che l'argomento si presta a facili strumentalizzazioni e infatti poco fa in aula abbiamo assistito anche ai primi interventi dei partiti sui quali, guarda caso, si sono iniziate già a manifestare queste tipologie di reazioni che devo dire, insomma, anche durante l'intervento del Ministro hanno veramente, insomma, lasciato un po' a desiderare perché erano inopportune. Io ho ascoltato le parole del Ministro molto attentamente, il quale ha ripercorso in maniera doviziosa tutti gli accadimenti dal momento della partenza, dell'orario preciso in cui questa imbarcazione è partita, anzi, neanche questa perché si tratta di una seconda imbarcazione quella che purtroppo si è, diciamo, distrutta sugli scogli di Cutro è una seconda imbarcazione che è stata in qualche modo portata a metà tragitto in soccorso, in aiuto della prima che era partita dalla Turchia in avaria e quindi anche da questo specifico particolare comprendiamo come l'episodio si collochi all'interno di una struttura criminale organizzata che ha, diciamo, una sua capacità anche addirittura di soccorso in alto mare da parte dei traghettatori che si sono prestati, diciamo, a condurre fino alle coste italiane questo gruppo di disperati alla ricerca evidentemente di benessere e non certamente della morte il ministro ha chiaramente inquadrato quelli che sono i presupposti della tragedia e devo dire anche dalla relazione che Frontex ha fatto, diciamo, al Ministero dell'Interno e ripercorrendo quelle che sono proprio le circostanze dell'individuazione da parte della, diciamo, dell'aereo mobile la prima volta di questa imbarcazione in rotta in acque internazionali non si comprende assolutamente quali possano essere i motivi per cui l'opposizione addita al governo e soprattutto anche indirettamente alle forze dell'ordine qualche responsabilità perché alcuna responsabilità, a mio parere, a parere di questa maggioranza, veramente c'è nella tragedia che è accaduta non c'era alcun elemento tale da poter presupporre una situazione di pericolo di quella imbarcazione ma soprattutto nessun tipo di segnalazione, almeno prima, diciamo, dell'avvicinamento alle coste italiane poi fino al momento in cui questa imbarcazione, a causa di una manovra fatta dagli scafisti per allontanarsi di fronte a una luce che era stata avvistata sulla spiaggia ritenendo trattarsi di forze di polizia durante appunto questa manovra di cambio di rotta un'onda ha, diciamo, spinto la barca evidentemente contro gli scogli e poi da lì dopo poco è avvenuto questo ribaltamento per un'onda ancora più grossa che ha travolto da notare come gli scafisti fossero in quel momento già fuggiti dall'imbarcazione con un gommone lasciando le persone quindi prive anche, diciamo, di un soccorso Tutto questo è... Quindi quello era il momento in cui si poteva lanciare l'allarme, secondo lei? In quel momento... E non per le acque mosse? Ovviamente, in quel momento, siccome poi la prima chiamata che è stata geolocalizzata, che ha permesso di individuare il punto preciso in cui si trovava questa imbarcazione, è avvenuta in un momento ormai tardivo rispetto alle possibilità di intervento Ecco, sicuramente se qualcosa prima fosse avvenuto in maniera tale da poterci allarmare il ministro ha confermato che si sarebbe potuto intervenire e lo si sarebbe certamente fatto ma ciò non è stato materialmente possibile perché prima dell'avvicinamento alle coste di Cutro nessun segnale, neppure da parte di Frontex era tale da poter in qualche modo prefigurare che una imbarcazione fosse in stato di pericolo che a bordo ci fossero delle persone bisognose di aiuto e tantomeno che questa imbarcazione al momento in cui è stata avvistata la prima volta fosse in rotta verso l'Italia Qui evidentemente, ecco, si tratta, ahimè, e purtroppo di una triste casualità il ministro ne ha ricordate tantissime durante appunto anche contestazioni che in aula erano in corso proprio durante la lettura delle tragedie che sono occorse nel Mediterraneo il ministro ha anche ricordato quelli che sono i provvedimenti messi in atto per garantire una immigrazione legale e fortunatamente diciamo cercare di diminuire le tragedie in mare e creare ecco un metodo di soccorso che non sia quello delle partenze diciamo lasciate in mano alla criminalità organizzata Il ministro ha letto anche i dati dei salvataggi fatti in questi mesi? Ci sono stati dei dati letti sui salvataggi che lasciano chiaramente si parlava addirittura solo per la Guardia di Finanza di oltre 11.000 salvataggi di persone in totale 36.000 soltanto diciamo nel periodo di osservazione che il ministro ha riferito in aula quindi come si possa dire che le autorità italiane non si stanno spendendo per diciamo portarsi in aiuto di queste persone che purtroppo si trovano a metà tragitto se non anche vicino alle coste italiane in grave difficoltà è ovvio che bisogna intervenire là dove questo fenomeno criminale ha origine bisogna intervenire sulle coste del Nord Africa il ministro ha ricordato che questo avverrà anche con l'aiuto dell'omologo francese con il quale si recherà appunto diciamo sui vari paesi come l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto ma non ultimo anche la Libia perché non si può affermare il fenomeno se non si interviene alla diciamo origine di questo di questo diciamo ecco purtroppo tristissimo fenomeno Secondo lei adesso l'Unione Europea sta rispondendo alle sollecitazioni del nostro paese oppure no? Purtroppo ci sono ecco delle, sì sicuramente dei sentori che si stia iniziando a prendere non tanto coscienza quanto assolutamente la misura della gravità del fenomeno lo si sta facendo tardi, la Lega lo aveva detto già da tempo che era necessario un intervento, una condivisione europea per gestire il fenomeno, lo si sta purtroppo facendo in ritardo lo si sta facendo con strumenti non all'altezza della situazione e purtroppo lo si sta facendo senza giocare un ruolo internazionale che l'Europa potrebbe giocare soprattutto sul fronte mediterraneo è il ruolo che noi pretendiamo che a questo punto giochi l'Italia nello scacchiare mediterraneo Bene, grazie come sempre al senatore Manfredi Potenti della Lega Gentilissimo Grazie a tutti Grazie a tutti